ciao ragazzi allora vi dico una cosa al volo perché tornando ai tutorial non se ne può più e quando si parla di temperatura del vino il vino rosso a che temperatura va servito bevete questo vino rosso a 15 barra 16 gradi temperatura ambiente quale ambiente quello del polo nord del deserto del sahara o quello di casa tua in inverno in estate un vino rosso ragazzi si deve a 16 gradi non ci credete fate delle prove prendete ma anche il barolo anche il brunello perché 16 gradi è la temperatura giusta che vi permette di godere di tutte le sfumature sia al naso che al palato per favore basta con questa cosa del vino rosso a temperatura ambiente che si dica la temperatura giusta è 16 gradi non è tra 16 e 20 gradi è 16 gradi punto 15 barra 16 gradi non è 20 non è 18 non è 19 è 16 gradi per favore basta io ho fatto centinaia di prove è tra i 15 e 16 gradi vi gustate un grande brunello un grande barolo qualsiasi tipo di vino rosso 16 gradi basta io non voglio fare tutorial ma a sto punto non ne posso più perché sto sentendo di tutto su questa cosa delle temperature gente che non è sul bicchiere e si vede che non è sul bicchiere ragazzi 16 gradi vino rosso 16 gradi basta ok ciao